Miffi, Miffi, corri e vai! Con i tuoi amici ti divertirai! Snaffi, Granti, Boris e anche Poppy è qui con te! Tutti insieme siete lì per giocare così! Miffi, sei una coniglietta! Miffi, dolce e un po' furbetta! Miffi, la nostra amichetta! Miffi, sei tu! Un giorno Miffi tornò dalla scuola. Andò in cucina e vide che la sua mamma era impegnata a sistemare la cucina. Ciao mamma, disse Miffi. Ciao Miffi cara! Mentre eri a scuola ho ricevuto la visita di alcuni amici. Abbiamo preso un tè con i biscotti e ho mostrato loro i tuoi bellissimi disegni. Ora devo lavare i piatti e metterli via. Posso aiutarti con i piatti? Domandò Miffi. Grazie, disse mamma Bunny. Ma devi stare attenta a mettere ogni cosa al proprio posto. Le forchette vanno con le forchette. I cucchiai con i cucchiai. Miffi era felice di aiutare. Appena la mamma lavava le forchette, i cucchiai e le tazze, Miffi asciugava tutto attentamente. Poi iniziò a mettere via ogni cosa. C'erano quattro forchette e Miffi le mise tutte al loro posto. C'erano quattro cucchiai. E Miffi li mise tutti al loro posto. Ma c'erano solo tre tazze. Una, due, tre. Mamma, disse Miffi, ci sono quattro forchette e quattro cucchiai, ma ci sono solo tre tazze. Oh cara, disse mamma Bunny, Dove sarà finita la quarta tazza? Non è nel lavello. Vado a cercarla, disse Miffi. Miffi iniziò a cercare per tutta la cucina. La tazza mancante non era sui fuochi e neanche dentro la pentola. Non era nemmeno nella credenza. La tazza mancante sembrava scomparsa. Non riesco a trovarla da nessuna parte, disse Miffi. Disse la mamma. Forse l'ho dimenticata sul tavolo. La quarta tazza non era sul tavolo. Guarda mamma, disse Miffi. I miei disegni sono sul tavolo. Sì, disse la mamma. Li ho presi dalla tua camera. Puoi riportarceli, ma stai attenta a rimetterli al loro posto. Allora Miffi prese i suoi disegni e andò in camera. Posò i disegni nell'armadio dove teneva tutte le sue cose. E lì c'era... la tazza mancante. Mamma, mamma! urlò Miffi. Ho trovato la tazza! Oh, povera me! disse mamma Banni. Quando sono andata in camera tua a prendere i disegni avevo la tazza in mano. Devo averla appoggiata nell'armadio. Ora abbiamo di nuovo quattro tazze. Grazie Miffi. Una, due, tre, quattro. A presto. Grazie a tutti.